Giacomo Stucchi, come analizza il voto della Lega Nord per queste elezioni amministrative? Sono stati dei risultati positivi, soprattutto in certe realtà importanti, come quella di Padova ad esempio, e risultati sicuramente non positivi in altre realtà. In alcune realtà, tra virgolette minori, pur essendo comuni, sopra i 15.000 abitanti, ma non capoluogo di provincia, abbiamo confermato la nostra presenza in modo marcato con la conquista o la riconquista di amministrazioni comunali con sindaci nostri o con sindaci di coalizione, devo dire francamente che è stato il risultato che probabilmente va messo in conto. Ora ci si interroga su quale deve essere il futuro del centro-destra, quale ruolo dovrebbe avere la Lega Nord? La Lega in questo momento all'interno del centro-destra ha il pallino in mano, nel senso che di fronte alla situazione confusionale in cui si trova soprattutto Forza Italia, di fronte all'inesistenza del nuovo centro-destra, di fronte al fatto che comunque altre forze politiche hanno percentuali estremamente ridotte, comunque non sono così popolari e non hanno una politica così condivisa come quella della Lega, noi dobbiamo assolutamente esercitare questa golden share, facendo capire che le nostre idee sono quelle che fanno più presa nell'elettorato, ma soprattutto che sono le migliori in assoluto per formare la proposta politica del centro-destra, avendo anche gli uomini che possono poi concretizzare effettivamente queste proposte. Bisogna evitare ammucchiate? Bisogna evitare ammucchiate a tutti i costi, bisogna partire dai programmi e i programmi sono chiari, perché quando si parla di abolire la legge Fornero piuttosto che di occuparsi delle problematiche della gente per quanto riguarda la carenza di fondi, di lavoro, di occuparsi della lotta all'immigrazione clandestina, di fermare gli sbarchi, di dare risposte al disastro sociale, di mantenere le competenze a livello locale per quanto riguarda la gestione degli aspetti quotidiani della nostra vita, quindi di andare avanti sul percorso del federalismo, di far sì che le risorse restano nei luoghi dove vengono prodotte, si tratta di fare dei programmi che poi devono trovare, e ci sono, i centravanti, definiamoli così, o i pivot se vogliamo utilizzare un termine della pallacanestro piuttosto che uno del calcio, che poi realizzino il gollo, realizzano il canestro. Il 20 luglio che congresso sarà quello della Lega Nord? Sarà un congresso per modificare in parte lo statuto per adeguarlo alle nuove normative, ma sarà soprattutto un congresso politico che dovrà attualizzare la profferta politica della Lega e dovrà, diciamo così, dare un indirizzo su delle scelte per quanto riguarda il futuro nostro e il futuro dell'alleanza del centro-destra, che saranno di un respiro maggiore dal punto di vista territoriale e rispetto col attuale.